Riconoscere le persone maligne. Riconosci le persone maligne. Allora, è molto importante imparare a riconoscere le persone maligne, le persone negative, le persone che ti rovinano la vita fondamentalmente. Quali sono i segnali per riconoscere le persone maligne? Ricordo che il vero problema è innamorarsi delle persone maligne, delle persone narcisiste, delle persone che non ti danno gioia, benessere e serenità, cara malgasciona. È fondamentale tenere presente che ci sono diversi segnali che ti permettono di riconoscere queste persone maligne. Quali sono questi segnali che ti permettono? Ne ringrazio, bene, allora, la persona maligna è una persona che fa leva sui tuoi punti deboli fondamentalmente e tutte le persone maligne utilizzano a spombattuto il senso di colpa, cioè cercano di farti vivere dei sensi di colpa. Sono le persone cattive, le persone cattive, nel vero senso della parola, diciamo, non perdono occasione per sottolineare quelli che sono i tuoi difetti o i tuoi lati negativi e spesso pronunciano una frase del tipo guarda che io lo faccio per il tuo bene. Fate attenzione, care malgascione, care carampane, Quando una persona ti dice lo faccio per il tuo bene te lo vuole mettere in quel posto normalmente è una persona cattiva, è una persona maligna questa frase è fondamentale per capire se hai a che fare con una persona maligna te lo ti dice io lo faccio per il tuo bene non credere assolutamente oppure le persone che fanno le vittime un classico atteggiamento tipico delle persone maligne è quella di fare la vittima cioè magari ti porta al parcheggio del cimitero e fa pure la vittima dice ti ho portato al parcheggio del cimitero a 5 stelle per dire cioè fa pure la vittima e appunto in qualche modo cerca di vinculari in qualche modo cerca di rovinarti la vita è un classico atteggiamento queste persone sono abilissime nel manipolare i sentimenti per ottenere quello che vogliono tra l'altro le persone maligne quello che vogliono poi è di fatto anche rovinarti la vita quello che vogliono è anche di fatto farti stare male quindi devi togliertela dai coglioni ringrazio Concetta e anche Barty devi stare attenta altra caratteristica che hanno sempre le persone maligne è che sono sempre negative allora un momento di negatività può capitare a tutti può succedere a tutti che c'è i coglioni che ti girano che c'è qualcosa che non va eccetera eccetera ma le persone maligne sono sempre negative sono sempre perennemente arrabbiate col mondo sono sempre tristi nei confronti degli avvenimenti e sono totalmente eteroattributive che cosa vuol dire eteroattributive? vuol dire che attribuiscono agli altri la causa dei loro problemi cioè queste persone attribuiscono agli altri la causa dei loro problemi e quindi tu verrai bersagliata perché se allora le cose vanno male vanno storte girano male è colpa tua e questa è un'altra caratteristica poi c'è diciamo un sesto senso che tu puoi cogliere diciamo quando hai a che fare con le persone maligne perché con queste persone di fatto non ti senti a tuo agio teniamo presente questo che purtroppo il vero problema è se tu ti innamori se tu ti innamori delle persone maligne e questo è il vero problema quindi l'unico sistema di difesa è quello di non coinvolgersi perché se tu non sei coinvolta te ne fotti ma quindi per non coinvolgerti non devi essere bisognosa perché purtroppo ci sono persone che preferiscono diciamo così stare male piuttosto che stare da sole questo è il vero problema quindi tu non devi temere la solitudine devi imparare a stare da sole anzi io suggerisco come diciamo metodo quello di imparare a stare da sole e di mandare a fanculo appena noti che una persona ha queste caratteristiche mandarla a fanculo di brutto subito e stare da sola finché troverai poi un'altra persona tieni presente un altro fatto fondamentale che con queste persone normalmente non ti senti a tuo agio perché una delle caratteristiche delle persone maligne è che sono anche come possiamo dire sono anche invidiose invidiose del tuo benessere se tu hai successo se tu hai se tu sei realizzato se tu hai ottenuto i risultati che vuoi allora come dire loro hanno invidia nei tuoi confronti hanno invidia ringrazio il concetto hanno invidia e questo è un punto fondamentale perché l'invidia la gelosia è un'altra caratteristica delle persone maligne le persone maligne sono gelose invidiose anche nelle relazioni sentimentali affettive soprattutto tendono a essere invidiose ringrazio Argia tendono a essere Argia tendono a essere invidiose delle ex questa è un'altra cosa o degli ex se una persona diciamo è gelosa invidiosa degli ex ti dice ah ma non devi mettere non devi mettere non devi mettere non devi tenere la foto che ne so su Facebook su Instagram cazzi e mazzi della tua ex del tuo ex magari una foto di una roba passata questo fa parte della tua vita non devi assolutamente accettare che la tua vita venga distrutta da una persona che ti dice non devi non devi non devi tu devi fare che cazzo vuoi questo è il punto fondamentale devi fare che cazzo vuoi le persone maligne tra l'altro sono anche false cioè non riescono a esprimere in modo in modo diciamo sincere i loro sentimenti poi vedremo anche la solitudine insomma come eliminare la solitudine nella nostra vita perché se è vero che noi nasciamo soli e moriamo soli questo dobbiamo tenerlo presente noi come esseri umani nasciamo da soli e moriamo da soli ma a parte questi due momenti nascita e morte tutti gli altri momenti siamo in interdipendenza collegati un po' con tutti quindi le persone maligne sono anche false quindi loro sono disposte a fingerse amiche e quindi devi imparare ad allontanarle dalla tua vita questo è il punto fondamentale devi imparare ad allontanare la tua vita intanto se capisci che una persona maligna non deve raccontare nulla di te se racconti qualcosa di te è il bacio della morte e della seduzione lo utilizzerà quello che tu racconti per ricattarti devi diciamo essere gentile ma comunque ferma questo è un punto fondamentale devi tenere presente che devi essere gentile ma comunque ferma devi allontanarla devi iniziare a trovare delle scuse iniziare a ma anche se sei molto innamorata di questa persona anzi a maggior ragione se sei molto innamorata di una persona così devi somministrarti l'emozione di chiudere la relazione se sei molto innamorata devi proprio mandare a fanculo e una volta che l'hai mandata a fanculo vedrai che starai molto meglio ma devi farlo perché se non la mandi a fanculo e resti diciamo vinculata in quella situazione non otterrai assolutamente nessun risultato quindi se segui queste indicazioni scoprirai quando una persona è maligne e dovrai avere la forza di toglita dai coglioni la forza di toglita dai coglioni la trovi mandando a fanculo facendo un atto crei una situazione che si chiama diciamo dissonanza cognitiva positiva quindi prossima volta che capisci che hai a affare con una persona maligna anche se diciamo ti piace sei innamorata non importa alzi il telefono dice una sola parola vaffanculo poi chiudi il telefono e sparisci completamente blocchi tutto e per sempre non interagisci più con questa persona vedrai che ti sarai dato una buona carica emotiva e questo ti permetterà di ottenere tantissimi risultati positive per intanto seguimi su Instagram Massimo Trammasco ufficiale seguimi su TikTok e su tutti gli altri miei canali YouTube iscriviti proprio l'iscrizione al canale YouTube è gratis quindi puoi farla bene bene quindi iscriviti a presto